Avete uno zoo vicino a casa? Noi siamo fortunati. Quello di Lipsia è infatti considerato il secondo migliore zoo in Europa dopo quello di Vienna e il primo in Germania. Fondato nel 1878, copre una superficie di 26 ettari ed ospita animali di ogni genere. È diviso in zone tematiche per continente, Asia, Africa e Sud America, oltre a due aree dedicate alle scimmie, Pongoland e alle aree amazzoniche, Gonvanaland, dentro cui è persino previsto un breve giro su un battello. Noi ci abbiamo trascorso l'intera giornata e ci siamo divertiti un sacco e voi amate gli zoo? Taggate qualcuno che portereste volentieri con voi.